Mamma's box nasce da una necessità, ovvero quella di soddisfare il bisogno degli italiani che vivono all'estero, di sentirsi a casa e quindi di mangiare, di avere accesso a tutti i prodotti alimentari tipici della cucina italiana. Normalmente il tipico italiano all'estero cosa fa per ottenere questo? Si affida all'istituzione mamma che è armata di santa pazienza e di denaro, va a fare la spesa, fa un simpatico pacchetto, spedisce il pacchetto così che il nostro amico chialuto possa ritrovarsi a tavola i sapori di casa. Quanti sono gli italiani all'estero? Tantissimi, 2.365.000 soltanto in Europa, investigando su un possibile mercato test abbiamo scelto il Belgio, perché? Perché in Belgio il 45% degli acquisti totali avviene tramite e-commerce e la media rispetto alla media dei paesi dell'Unione Europea di acquisti sull'estero è di 25% contro l'11% dell'Europa. Che cosa facciamo noi per i nostri clienti? Per chi decide di acquistare presso il nostro sito, noi ci affidiamo a dei produttori locali, quindi dei piccoli produttori che non hanno la possibilità di gestire da soli un servizio di e-commerce e quindi gli offriamo una vetrina sul web. Gli creiamo una pagina in inglese, cosa che probabilmente non tutti sono in grado di fare e ovviamente gli facciamo crescere il profitto. Che cosa facciamo per i nostri clienti? Gli offriamo un servizio di acquisto e gli diamo un sacco di prodotti buoni. Quindi l'utente italiano avrà qualità del prodotto a filiera corta, un prodotto tradizionale e tutti i vantaggi dell'e-commerce che sono risparmio di tempo. Oddio, l'ho sbagliato. Invece per i produttori, che cosa facciamo? Gli creiamo appunto l'immagine e gli diamo l'opportunità di vendere i prodotti all'estero. Il cliente italiano che cosa fa? Sarà l'ambasciatore per portare nel sito gli eventuali clienti stranieri. Io già solo per il fatto che sono italiano e compro del cibo, sono una garanzia di qualità per tutti gli stranieri. Che cosa vendiamo? Vendiamo delle scatole, delle scatole con dentro prodotti non deteriorabili o stabilizzati, quindi si parla di olio, insaccati, formaggi stagionati, conserve e confetture. Scatole di diverse dimensioni. Come si possono acquistare le scatole? Singolarmente oppure in abbonamento. E quindi cerchiamo di creare all'italiano all'estero la dispensa, che è quello che potrebbe fare comodamente andando al mercato ogni settimana. Come cerchiamo di ingabbiare i nostri clienti? Puntando sulle associazioni degli italiani all'estero che sono numerosissime, che saranno le prime che verranno contattate e attraverso le quali noi cercheremo di offrire dei coupon sconto per tutti gli associati, promuovendo degli eventi culinari. Quindi cercare di inserirsi in tutto quel mondo che sono i food lovers. Attraverso ovviamente i social network e quindi puntare sulla storia che sta dietro ogni prodotto. e attraverso contest di cucina, quindi pensavamo Instagram, metti la foto con la ricetta più buona che puoi fare con la scatola di Mama's Box. Grazie a tutti.